Io mi chiamo Rinarelli Angelo, nato a Erba il 23-12-1980, ho 31 anni e gioco in Briantia da 13 anni. Quest'anno abbiamo fatto gli allenamenti che per noi sono stata una stagione bellissima, che neanche noi pensavamo di faccela, 3 o 4 allenamenti a settimana, 110 allenamenti totale, più il sabato e la domenica per prepararci ai due tornei fondamentali che per noi, per l'elite e il nostro allenatore, sono stati bellissimi, per tutto lo staff. Allora Tripoli Eugenio è un grande portiere, però non sente, purtroppo è un gran portiere. Rinarelli Angelo, io sono il capitano di Abia 34. Allora ho fatto tanti ruoli, ma il ruolo che mi piace di più è il centrocampista e il mio sogno è di diventare come Pirlo. Scola Marco è un bravissimo giocatore, è forte, è in fascia e lo ammiro perché c'è una velocità che qualcun altro non ha. Marino Bartomeu è da anni in Briantea, è stato anche con noi dell'elite, adesso è passato nel promozionale, è il capitano e un guerriero. Roberto Mattana quest'anno ha giocato in difesa, ha giocato poco in nazionale di calcetto a 5 e mi dispiace. Anche lui ha fatto la sua parte. Domenico per noi è un onore averlo perché ci fa ridere anche nei momenti bui, nei momenti dove perdiamo le partite, ma con lui ci fa ridere, ci fa venire su in morale. Radice Mallon è un bravissimo giocatore, solo che deve crescere, deve ascoltare più gli allenatori del promozionale, quelli dell'elite. Di Marco Mattia è cresciuto molto, sono contento, a calcetto a 5 ha fatto delle belle cose, ha fatto 4 gol, non ha mollato mai come tutta l'elite. Marchese Calogero quest'anno ha fatto una cosa bellissima, per noi lo ammiro perché noi insieme allo staff Giorgio ci è venuto nella spogliatoia e dici chi vuole fare il portiere al posto di Eugenio, ci siamo pensati, noi da soli e questa cosa è bellissima perché solo la Briantea 84 lo farebbe e lo ha fatto, abbiamo scelto Marchese Calogero e se l'ha cavata bene, anche perché qualsiasi portiere le prendeva quest'anno. Avascioni Gianni è stato bravissimo quest'anno perché ha portato il promozionale prima in classifica del campione d'Italia e sono contento per lui. Carovano a Calogero purtroppo non so se viene l'anno prossimo, speriamo di averlo perché mi dispiace, anche se ci sono i problemi della vita dei genitori qua là ma secondo me è il giocatore che deve scegliere cosa fare nella propria vita. Noli Mauro per me all'inizio quando è arrivato mi ero preoccupato, ho parlato con il mister, mi ha coraggiato e sono contento perché per me è come un fratello. Lo aiuto molto, anche i suoi genitori sono contenti di me che lo aiuto perché purtroppo anche lui è sordo e è importante che gioca bene a pallone e sono contento che è nazionale. Bruno è stato migliore, secondo me è promozionale, non ha mollato un attimo, è stato bravissimo e sono contento per lui e spero che più avanti verrà anche nell'Elite. Ma c'è in Gianni purtroppo quest'anno non c'è perché si è comportato un po' male, ci è dispiaciuto noi dell'Elite ma anche tutto lo staff e spero di recuperarlo l'anno prossimo. Popozelli Dennis è arrivato quest'anno e sono contento di averlo perché è una promessa che spero che rimana a lungo, anche se ogni tanto non ascolta il mister e deve crescere tanto anche lui. Modaf, ripeto, è una promessa anche lui del promozionale, purtroppo lui ha problemi fisici e niente, però sa giocare a pallone e a Gineva ha fatto un gran gol alla De Pio. Andrea Lievi è una promessa che è arrivato quest'anno anche lui, è giovanissimo, deve crescere molto e però aiuta tanto sia il promozionale che l'Elite. Yassir è come Domenico, ci fa ridere, scherzare, ci fa tirare sul morale e poi ha fatto un gran gol a Firenze. Maestro Nealessandro è arrivato dopo quattro anni oltretutto di Lecco, siamo contenti di averlo visto e niente, spero che anche lui rimana a lungo. Allora, a Zara e Vano quest'anno purtroppo c'è stato poco, ma per noi è come se c'è e siamo contenti di lui, siamo contenti dei giovani che ci aiutano a far crescere. Brescia Marco è un gran fotografo, non lo dico io, ma si vede perché anche a Firenze si è dato da fare sia con noi che con il promozionale, ha corso molto. Ci ha tirato su di morale contro il Napoli, ci ha detto solo di giocare e noi ci siamo divertiti. Casato Gabriele, anche lui è venuto a vederci, sia l'allenatore del promozionale, il campione d'Italia e sia nell'Elite. È venuto lì e nello spogliatoio ha detto che siamo stati bravi, coraggiosi e che non abbiamo mollato mai un pallone. Per anni Giorgio è il migliore allenatore, io lo dico perché anche a Firenze era più forte dell'allenatore del Napoli, ci ha fatto trasmettere tanta roba, anche se io ogni tanto perdevo un pallone, ma non mi spaventavo perché io sapevo che nella panchina guardavo sempre Giorgio, è giusto che bisogna fare come Mauro Guadassi, che lui è come se noi, è come se lui è in campo con noi e per questo sia che vinciamo che perdiamo, comunque siamo contenti di averlo e speriamo che rimane a lungo nell'Abiantina 84. Nava Tommaso anche lui è una promessa come allenatore, spero che rimane a lungo, l'abbiamo ritrovato dopo che lui ha lavorato tanto e spero che rimane a lungo con noi dell'Elite, perché secondo me diventa come Giorgio. Scola Paolo per noi è fondamentale, ci aiuta molto, per noi giocatori e dello staff è come un padre. La stessa cosa di Scola Marco, cioè prima che arrivava lui anche lui è stato il nostro allenatore, ci ha fatto insegnare molto, è venuto a Gineva l'anno scorso e abbiamo vinto, però anche per noi è come un padre anche lui. Spinelli Marco, anche lui è venuto a Gineva, è stato poco con noi perché ha avuto da fare, però siamo contenti che anche lui c'è e spero che anche lui rimane a lungo nell'Abiantea e niente, tutto qua. E niente, sono contento di loro e soprattutto della mia squadra dell'Elite e soprattutto del promozionale, perché siamo diventati capioni d'Italia, l'anno scorso siamo stati noi quest'anno loro e soprattutto un gran gol di Muzaki Yassir, giovane promessa, che per noi è un giovane che ha fatto un bel gol e che non ci aspettavamo, comunque è stato bravo. Meeting di Rimini, io purtroppo non c'ero perché ero in vacanza, ma mi hanno detto i miei compagni che è stato bello, dove abbiamo giocato e speriamo che si sono divertiti gli altri a vederci a giocare a pallone. Abbiamo partecipato al campionato di calcio a 11, spero che ci sia anche l'anno prossimo, perché il calcio vero è a 11 e niente, abbiamo perso contro il Milano, però secondo me non meritavamo di vincere perché l'abbiamo fatta noi la partita. Poi nel calcio si sa chi fa la partita, però chi non segna l'altro subisce. Allora, la Coppa Lombardia di calcio a 5 l'abbiamo vinto a noi, senza problemi, e abbiamo giocato bene sia noi che promozionale. E la cosa bella è che il nostro giocatore Pomposelli Dennis dell'Elite è stato il miglior giocatore di calcio a 5. Allora, abbiamo partecipato alla Cometa Cup, dove ne abbiamo presi tante, tre volte, ma nel nostro sport quest'anno abbiamo cresciuto molto, perché il nostro allenatore Giorgio ha detto di divertirsi quest'anno, ci siamo divertiti, giocando a pallone anche se prendiamo o vinciamo, è importante divertirsi e combattere fino alla fine, finché l'abito non fischia la fine. Il torneo di Geneva è il 33esimo torneo, quest'anno purtroppo il puff non l'abbiamo portato a casa, però siamo contenti perché ci siamo giocati su tutte le squadre, soprattutto con la Scozia che eravamo in vantaggio grazie a Pietro, poi ci hanno rimontato, abbiamo pareggiato, poi i nostri amici dell'Elanna ci hanno fatto un bel regalo, però purtroppo non è servito, ma comunque siamo stati contenti perché il miglior giocatore è stato Nolli Mauro. Nazionale di Caccetta 5, siamo arrivati i terzi, però la cosa che è più bella è che non abbiamo mollato mai un pallone, che il nostro portiere Calogero ha fatto tante parate, e poi che secondo me con il Napoli meritavamo di più noi che loro, però loro sono campioni in carica da tanto tempo, noi dobbiamo prendere esempio da loro, crescere molto, abbiamo tanta roba da lavorare e secondo me prima o poi lo scudetto nostro dell'Elite arriverà. E niente, anche lì ringrazio la scuola calcio perché per me è speciale questa cosa, io lo sanno lo staff che un domani vorrei fare l'allenatore. Allora, la scuola calcio, io devo ringraziare il mio allenatore Giorgio perché grazie a lui che mi viene a prendere e portarmi a casa, e poi ringrazio la direttrice di Bosizio che ci dà spazio per far divertire i bambini. Niente, spero che l'anno prossimo ci sono ancora con loro, che più avanti vorrei fare l'allenatore. Poi ringrazio tutti i bambini dal primo all'ultimo perché grazie a loro stiamo crescendo. Io, Noli Mauro e Di Marco Mattia e anche il nostro allenatore Giorgio. E poi ringrazio gli educatrici di Bosizio che stanno lì e spero che si divertino anche loro a guardarci a noi e ai bambini. E poi sono contento che secondo me è una promessa molto di Andrea, Daniele, che purtroppo non può fare le forti e mi dispiace. È un ragazzo molto in gamba, non si rende mai su palloni se visto a Carugo, non si arrabbia mai con i compagni, incita molto, è un guerriero. E poi c'è Marcello che deve imparare a ascoltare di più perché anche io ero così come lui e poi ho capito tante cose. Ha giocato bene a Carugo, però deve smettere di lamentarsi sia con i compagni, con gli avversari, soprattutto con gli albitri perché gli albitri se dicono una cosa è quella e bisogna accettarla. Poi c'è Magid che anche lui è una promessa molto interessante, è bravissimo, non molla mai anche lui sui palloni, è corretto, infatti è stato il miglior giocatore più corretto sul campo di Carugo, è fondamentale. E poi niente, poi aiuto sempre tutti i bambini, soprattutto quelli in difficoltà come Cristian Frigo e Zambelli che devono crescere molto, Cristian Frigo ascolta molto, invece Zambelli ride sempre, però è simpatico, però deve ascoltare di più gli allenatori, il mister e niente, sono bravi tutti e spero che l'anno prossimo continuano e che non ci lasciano insieme a noi. E niente, ringrazio tutta la gente che ci hanno chiamato per fare dei tornei che è dura quando ci chiamano qua là per organizzarli, ma le facciamo bene le cose, noi. E niente, comunque è bellissimo giocare in Briante 84 e io dico solo questo, bisogna dire, cioè è giusto che siamo disabili intellettivi, ma io preferisco dire squadra Briante 84 calcio perché siamo intelligenti, persone umane, abbiamo tanti problemi noi ragazzi, ma soprattutto il promozionale dove ci sono dei giovani bravi e noi dell'elite dobbiamo aiutare questi giovani. E poi aiutare anche gli allenatori perché secondo me lo staff più bello ce l'ha la Briante 84. Io comunque ringrazio tutto lo staff che mi ha chiamato in Briante perché è la prima squadra che ho avuto e sono cresciuto grazie a loro e come famiglia secondo me è la seconda famiglia, cioè è come se sono nato un'altra volta. Grazie. Grazie.